Buongiorno, approfitto volentieri di questa occasione per presentare la nuova versione della rivista informativa dell'Associazione Italiana Odontoiatri, prospettiva odontoiatrica infatti si è rinnovata completamente in questo che è l'undicesimo anno di pubblicazione e ha avuto un ampio rimaneggiamento e rimodernamento sia nella veste grafica che è stata completamente rivista e sicuramente verrà notato dai lettori il fatto che siamo passati da un formato in una tinta completamente nera ad un formato che è una tinta diametralmente opposta quindi bianca. C'è stata una rivoluzione su alcune rubriche, sul sommario in particolare che rende più agevole la consultazione degli argomenti che sono inseriti all'interno della rivista e in più sono state inserite alcune rubriche in particolare che cosa ne penso e in primo piano che sono delle rubriche che sono state studiate in maniera particolare per approfondire alcuni argomenti e nel caso della rubrica in primo piano valutare l'impatto sulla professione di alcune notizie particolarmente di attualità. Non è una rivista dedicata all'attualità intesa nel senso di news in relazione al fatto che la sua periodicità non consente di essere diciamo tempestivi nella notizia ma in ogni caso è una rivista che si propone con l'utilizzo di esperti interni all'associazione e anche consulenti esterni di approfondire via via degli argomenti, abbiamo toccato più volte l'argomento abusivismo, abbiamo toccato sicuramente uno degli argomenti clou di questo periodo che è la previdenza pensionistica e via via ci occuperemo di tematiche sempre di stretta attualità utilizzando risorse interne del Consiglio di Presidenza dell'associazione ma anche il contributo di singoli soci che siano disponibili a parlarci delle loro esperienze e del loro modo di vedere la professione in maniera tale da poter realizzare uno strumento informativo che sia il più vicino possibile alle esigenze pratiche dei colleghi. Quindi ogni contributo è bene accetto e la nostra speranza è che questa veste grafica, questa nuova impostazione siano in grado di essere sempre più accattivanti per i lettori in maniera che l'informazione nel nostro settore diventi anche grazie a noi sempre più completa.